benvenuti a questa nuova serie di voyager italia straordinaria siamo in viaggio e attraverso la vostra possibilità di vedere a 360 gradi possiamo inquadrare potete vedere tutte le persone che stanno lavorando per realizzare questa nuova serie di voyager scopriremo i luoghi più belli più nascosti più segreti più misteriosi dell'italia anche i personaggi che in italia all'estero hanno reso famoso il nostro paese pensate occupiamo solamente lo 0,5 per cento della superficie del mondo siamo solamente lo 0,8 degli abitanti di tutto il mondo ma di cose ne abbiamo fatto e le scopriremo insieme